Sono venuto dopo di me, me ne sono dovuto andare questi effetti. Vasche di laminazione, l'amministrazione comunale Nocirina potrebbe accodarsi anche al comune di Montoro impegnato in un ricorso al Tarnapoli dopo aver dato mandato al proprio legale di unirsi a quello presentato dal coordinamento difendiamo su input del comitato Novasche. A rafforzare dunque una posizione che intende essere chiara, non la bocciatura a priori del progetto Grande Sarno ma il sollecito a valutarne la compatibilità ambientale soprattutto sul fronte Vasche. Una pista che, ieri lo ha ribadito il commissario dell'Arcadis, incontrando il comitato gente del Sarno viene giudicata dalla regione Campania l'unica percorribile per eliminare il problema delle esondazioni e delle tracimazioni del fiume Sarno e dei suoi affluenti. Un piccolissimo equivoco è legato a pensare che tutti gli interventi sul fiume Sarno siano direttamente e strettamente connessi al suo disinquinamento. Questo non è un intervento specifico di disinquinamento ma di sessimazione idrogeologica. È un intervento che incide e vuole ridurre la capacità di esondare del Sarno aumentandone la sezione, creando anche delle vasche di laminazione e un differente sbocco a mare. Evidentemente le questioni sono sempre molto intrecciate. Noi seguiremo evidentemente i manuali POR, le norme europee. Questo è un progetto europeo, un grande progetto europeo. Quindi sulla gestione, dal punto di vista della gestione delle gare di appalto e degli affidamenti dobbiamo essere tutti assolutamente tranquilli. Dal punto di vista della individuazione dei migliori interventi, ecco che oltre ad aver coinvolto la comunità scientifica nel suo insieme siamo qui con i cittadini per così dire, per confrontarci ancora prima di partire, spero a breve. Il Comune si è schierato dalla parte di un'osservazione giusta. Come giusto è fare le vasche di laminazione a patto e condizione che siano fatte con criterio. Il punto non è fare delle opere idrauliche, quali le vasche di laminazione sono, per contenere le sondazioni, per eliminare il rischio allagamenti. Perché lì non solo è un rischio per cose, ma è anche un rischio per persone. Il punto è se questo tipo di opera sia compatibile con rispetto dei rischi di inquinamento che quelle acque esondando dal fiume produrrebbero sui terrei. Ora, il progetto ha una sua validità, ma va attentamente osservato, e questa è la ragione per la quale il Comune ha aderito con autonomo atto specifico al ricorso TAR presentato dal Comitato Novasche, ma il Comune si è costituito, io ho controfirmato ieri l'altro, appunto, questo tipo di mandato al legale dell'ente, in adesione al ricorso presentato. Peraltro posso anche anticipare che vi è un altro ricorso pendente innanzi al Tarnapoli, già promosso a suo tempo dal Comune di Montoro, rispetto al quale stiamo valutando anche lì la possibilità di un intervento adesivo autonomo. Questo i comitati ancora non lo sanno, ma lo annuncio adesso per TV, in modo da rafforzare le posizioni che il Comune di Nocera ha inteso prendere rispetto a queste questioni.